Ho svincolato tutti i giocatori del Napoli per scoprire che fine faranno Preparatevi perché gli ultimi giocatori vi faranno impazzire E suggeritemi altre squadre con cui fare questo format Come mi retta ancora svincolato? De Lorenzo al Manchester United sarebbe bello Jesus al Cadiz, gli piace proprio il rischio Team alla Lazio, immaginate che coppia con il Gabaroon Il maestro Mario Rui al Nizza Olivero al Liverpool è buono Elmas al Francoforte Ma come lo bocchica ancora svincolato? Zambone al Nottingham Forest, torna in Inghilterra No, Zielinski svincolato? Oh, ma FIFA, ma che fa qualcosa? Lo Zano al Manchester United lo vorrei vedere Pure Politano è ancora svincolato, ma me lo prenderei subito Attenzione, Giacomino è tornato a Napoli Simeone allo Strasburgo Ma che... Cosa? Ozyman dopo un anno è ancora svincolato? Chi? Varascheglia all'Atletico Indipendente Oh Nooo!